Allora, il discorso di oggi è abbastanza pesante. Cerco di ricostruire tutto con calma e di essere il più chiaro possibile. Mi perdonerete se mi soffermo un sacco sui dettagli. Verstappen è campione del mondo 2022. È confermato, matematicamente è così. È al centro del progetto Red Bull e da lì non lo smuovi. Com'è possibile tutto il caos del GP del Brasile? Onesto, il due volte campione del mondo non è un santo e lo sappiamo. Ma qualcosa, in casa Red Bull si è rotto, altrimenti non si spiega. Ma ripeto, andiamo con ordine, perché per arrivare al Crashgate il percorso è lungo. La polemica nasce nelle battute finali del GP del Brasile. Max Verstappen conclude la gara in sesta posizione dopo un contatto con Lewis Hamilton, mentre Sergio Perez è andato in crisi con le gomme sul finale di gara. Chi ha visto il GP sa che quest'ultimo ha perso il podio facendosi infilare le due Ferrari, dall'Alpine di Alonso e anche dal suo compagno di squadra. Ed è qui che nasce il dramma. Con il titolo già in tasca e non lottando per il podio, Max Verstappen poteva tranquillamente cedere la sesta posizione al messicano, garantendo due punti in più a Sergio Perez ed evitando una situazione di parità in classifica con Charles Leclerc. Adesso questa cosa per chi non ha seguito la dinamica, come potete immaginare, non è accaduta. E il messicano non l'ha presa bene. Team Radio in gara lo ringrazia e comunica alla squadra qual è il vero Max. Questo è Max. Precisamente le parole che ha utilizzato è si è mostrato per quello che è. Yeah, it shows for who he released. Per rincarare ancora di più la dose dopo comunicherà ai microfoni che è grazie a lui se Max Verstappen ha vinto due mondiali, alludendo al fatto che lui l'ha aiutato in tantissime occasioni e poteva ricambiare il favore. Capite quindi meglio di me che queste parole sono pesanti, hanno un peso, le han sentite tutti. E in realtà anche qui potremmo aprire un discorso. Perché Roberto Chinchero per Motosport.com ci fa notare che è la federazione a decidere cosa noi dobbiamo sentire e cosa no. E questo in teoria porta il pubblico ad essere influenzato in un determinato modo. Però è un altro discorso. Adesso noi ci soffermiamo su altro. Ripeto, queste parole quindi sono pesanti, hanno un peso. E la storia così raccontata fa sembrare Max Verstappen il cattivo. Quello che se gli togli il giocattolo, se gli togli la vittoria, fa i capricci. Io però, come magari vi ho fatto capire all'inizio, non voglio pensare sia solo questo il motivo. Sicuro Verstappen era irritato dal sorpasso di Hamilton, dal contatto con quest'ultimo, dalla penalità, dal fatto che la RB18 non aveva performance. Però si è aperto via radio, qualcosa l'ha detto. Anche se all'inizio ha fatto finta di nulla e è stato zitto. Soltanto dopo non aver rispettato gli ordini di scuderia, il cedere la posizione a Perez si aprirà. E lo farà anche in maniera forte, cioè prende una posizione ben delineata. Affermando che non devono più chiedegli cose del genere e le motivazioni loro le sanno. Ha le sue ragioni e non cambierà idea. Non preoccupare del DRS Max, facciamoci a cercare. Facciamoci a cercare. Max, facciamoci a cercare, per favore. Max, cosa è successo? Ho detto già l'ultima volta, non chiedetevi ancora di me. Ok? Siamo chiaro? Ho dato le mie risorse e sto per me. Max quindi ha dichiarato senza neanche girarci troppo attorno che lo scambio di posizioni non è avvenuto per un motivo ben preciso. Ricostruendo però quale può essere il muovente che ha portato quest'ultimo a fare un'azione così importante. La mancata scia al Pornicard? O la mancata scia a Monza? Sì, possono essere delle motivazioni però fino a che punto? Il comportamento è un po' troppo per essere riconducibili a una scia. Anche perché esattamente un anno fa lo stesso Verstappen si stava giocando il mondiale con Lewis. E io ricordo l'espressione che c'è questa legend perché effettivamente la difesa che aveva fatto in favore dell'olandese su Lewis Hamilton era importantissima. È stata chiave per la vittoria del mondiale. Comprendetemi, non saranno due scie a rompere questo. Per forza deve essersi rotto qualcosa. Dopo Abu Dhabi 2021, Verstappen, non dico che è riconoscente a vita a Perez, però sicuramente lo vuole bene. Gli sta simpatico. E da qui i primi rumors. Mi raccomando, rumors non è la verità. Le voci che circolano. Partono delle voci. Questi puntano il dito su qualcosa che è accaduto in qualifica a Monaco. E da qui sarebbero nate le tensioni Red Bull. E allora, con tanta pazienza ricostruiamo anche quello che è accaduto lì. Siamo ormai a tempo scaduto delle Q3, siamo in qualifica quindi e stiamo al principato di Monaco. Fin qua tutto normale, ci siamo. Leclerc è in pole, Sainz è secondo, cieco Perez è terzo e Max Verstappen è quarto. Curva prima del tunnel. Perez perde il posteriore della monoposto, va in testa coda e va a sbattere con la parte di dietro sul guardrail. Poi successivamente verrà anche colpito da Carlos Sainz. Bandiera rossa, congelamento della classifica, non so se ricordate. Se siete iscritti lo ricordate benissimo. Se non siete iscritti invece fatelo, perché da qui probabilmente, secondo me, si aprirà un'inchiesta. E vi spiego anche il perché. L'ipotesi che gira è che Perez abbia volontariamente provocato la bandiera russa, forzando la sua RB18 in testa coda. Noi, ovviamente, il giro di Perez lo abbiamo. E grazie anche alla telemetria, ma in questo caso mi servo di Federico Albano per non fare errori, possiamo effettivamente dire che è vero. Può essere vero. Meglio. Prima di proseguire però capiamo bene l'immagine. Dove è avvenuto il tutto? È in curva 8. Portier in italiano, Portier in francese. È il nome della curva. E i colori scelti da Federico Albano per Formula Passion sono il blu per Sergio Perez, il bianco per Max Verstappen e il rosso per Charles Leclerc. Io comunque, sempre per chiarezza, vi lascio i link in descrizione. È giusto che voi leggete l'articolo completo. Ci sono delle cose che effettivamente non quadrano. Tipo l'ingresso in curva 8, dove si parla di velocità inferiori di 9-10 km orari rispetto ai rivali. La seconda cosa che invece non quadra è il colpo di acceleratore che fa solo Sergio Perez al 93% proprio a centro curva, ossia il momento in cui si innesca il testa coda. È chiaro ragazzi, questo non può essere una prova. Solo Red Bull lo può sapere realmente. Però sono degli indizi ed essendo anche un grandissimo testardo andrò a fondo in questa cosa. Il dubbio è lecito e il passaggio da incidente di gara a Crash Gate 2.0 è breve. Aggiungiamo quindi un altro punto e diamo uno sguardo all'angolo di sterzo. Per rigirare uno monoposto e prendi se è babacu, devi portare poca velocità, meno angolo sterzo e dare un colpo netto di gas. Nel caso che stiamo analizzando, l'unico che ha dato un colpo di gas, ripeto, al 93%, quindi anche in maniera importante, è Sergio Perez. Verstappen e Charles Leclerc non lo fanno. Tutto ciò porta a pensare o almeno è compatibile a un gesto volontario. Ma anche qui è sempre un indizio, non abbiamo la prova, non abbiamo la certezza. Magari per quel giro Sergio Perez voleva tentare qualcosa di diverso, voleva provare ad entrare in curva 8 un pelo più lento per uscire più veloce. Non possiamo del tutto escluderla questa ipotesi. È un'interpretazione di guida che potrebbe esistere. Ma l'angolo sterzo è tra l'altro peccato che non possiamo avere il dato preciso ma questo ce l'ha solo Red Bull. Ci dice ancora un'altra cosa ed è per questo che io inizio a pensare a un qualcosa di volontario. Ripeto, non possiamo certificarlo. Perez e la Red Bull sanno. Però il messicano ha fatto più giri, ha fatto più tentativi. E voglio prendere in analisi l'immagine che ha pubblicato sul suo profilo Instagram Davide Carblogger. Mi raccomando seguitelo, sta sempre un passo avanti. In questo caso si mettono a paragone i due angoli sterzo di Verstappen durante i suoi giri veloci e di Perez durante i suoi giri veloci. Si vede che uno è un pelo diverso da un altro. Anche qui per quanto possa essere una prova, possa sembrare essere un indizio più che una prova, non possiamo essere certi. Magari voleva interpretare curva 8 in un altro modo o semplicemente ha sbagliato. Ricollegandoci a prima, Verstappen non è un santo e questo lo sappiamo. Però è molto diretto, non te le mando a dire, non mente. E se c'è qualcosa di grave in ballo, state tranquilli che chi salta non è Verstappen. La Red Bull non può fare a meno di quest'ultimo. E l'abbiamo capito, c'ha il contratto fino al 2028. Mentre di Perez sì. Quindi dato che sono tanti gli indizi e noi il caso l'abbiamo ricostruito. Considerata la politica di Red Bull, qualora tutto questo dovesse essere vero, tempo due giorni e se la notizia si espande, Perez è licenziato. Ovviamente non voglio neanche essere esacente e dirlo con certezza, però ricordiamo come è stato trattato Albon. Ricordiamo come è stato trattato Gasly, Kvyat, Ricciardo. Ma non lo darei così per scontato. E chissà mai che quest'ultimo ci abbia visto lungo. Sappia qualcosa anche lui. Perché per tanto tempo si credeva dovesse diventare terzo pilota Mercedes, per tanto tempo doveva andare in AS. Alla fine si ritrova di nuovo il Red Bull. Molto probabilmente sarà terzo pilota Red Bull. Vuoi vedere che all'ultimo qualche collegamento esce fuori? Magari l'Australiano ci ha visto anche lungo. Nulla ragazzi, questa è la storia. Non si sa altro, non posso dare conclusioni, ma il dubbio io personalmente ce l'ho. Ribadisco, iscrivetevi perché secondo me da questa storia ci divertiamo. Seguitemi su Instagram, su Twitter, lì sono più tempestivo con le notizie, faccio prima, e poi pubblico anche le mie cazzate. Perdonatemi la serietà, a volte è necessaria. Da Tonio, era tutto. Passo. E chiudo.